Benvenuti, mi chiamo Giacomo Tomassi Galanti, sono il titolare insieme a mio fratello Giovanni dell'azienda Tomassi Galanti. La nostra azienda dal 1954 produce cucine per il mercato sia italiano che internazionale. Il fondatore dell'azienda Tomassi come produzione di cucine è stato mio nonno Roberto che da un piccolo laboratorio nel centro di Pesaro ha iniziato dapprima a produrre mobili, poi si è specializzato dal 1956 nella produzione di cucine e dal 1956 fino ad oggi la nostra famiglia ha sempre prodotto cucine. Dopo mio nonno si sono conseguiti i miei zii e mio padre Antonio nella guida dell'azienda fino al 2001 che con la scomparsa appunto del fondatore Roberto è entrato un partner che si occupava delle scelte manageriali e aziendali fino al 2017. Dal 2017 io e mio fratello Giovanni siamo appunto i titolari e alla guida dell'azienda di produzione. Le scelte che abbiamo voluto dare alla nuova azienda Tomassi Galanti sono innanzitutto l'utilizzo dei due cognomi, una volta era solo Tomassi, adesso è Tomassi Galanti per fortificare che alla guida dell'azienda c'è solo la famiglia Tomassi e le radici che erano dal 1954 quindi con dei principi e dei valori fondamentali che sono la qualità, l'uso di lavorazioni artigianali e la cura e l'attenzione verso il cliente. Oltre queste caratteristiche quello che caratterizza la nuova azienda e le avanzate tecnologie che vengono utilizzate a tutti i processi oltre alla qualità della vita aziendale quindi c'è un grande rispetto sia dell'etica sia appunto del rispetto verso le persone e verso l'ambiente. Infatti la nuova azienda dove ci sono i reparti degli uffici, dove c'è lo showroom e dove c'è l'assemblaggio e il controllo qualità avviene in una superficie di mille metri quadri in quanto pensiamo che la qualità del lavoro sia importantissima. Infatti vogliamo che sia le persone che lavorano con noi sia i prodotti che nascono dalla nostra azienda vengono fuori da uno stabilimento dove d'inverno ci sia un ambiente confortevole idem d'estate perché poi il prodotto finale che riceve il cliente è inerente alla qualità della vita aziendale quotidiana e appunto si trasmette sul prodotto finale. Questa nostra nuova azienda smart ha sede come fu durante la nascita appunto di questo business a Pesaro. Ci troviamo in una terra bellissima culla di arti artisti e artigiani. Questo territorio bellissimo che ispira il saper fare le arti e le cose belle. L'uso di tecnologie avanzate ci permette di dare una proposta industriale del prodotto. Infatti noi uniamo sia la customizzazione tipica di un piccolo artigiano tipo un falegname sia l'industrializzazione del prodotto. L'insieme di questi due fattori fa sì che siano delle certezze sia in termini di prezzo finale sia in termine di qualità e funzionalità della cucina. Il nostro core business appunto sono la produzione di cucine per l'85% della produzione ma su richiesta del designer che progetta l'ambiente produciamo anche altri tipi di arredamenti tipo armadi, living o mobili da bagno. Tutto questo lo possiamo riassumere con il termine smart. Infatti ci piace parlare della nostra azienda come un'azienda smart cioè veloce, elastica, che risponde immediatamente alla domanda del mercato. Con l'utilizzo di tecnologie avanzate, di un know-how di oltre 60 anni di storia riusciamo a soddisfare anche i clienti più esigenti.